Criminalità a Pesero, il centrodestra chiede consiglio straordinario sulla sicurezza. Atimi, il PD attacca, agenzia vuota e senza personale. Acquaroli annuncia commissione per fare chiarezza. Il Bosco e Cammina lascia via Marconi che avrà un piazzale e torna percorribile dalle auto. Acqualagna alza il sipario sulla sua 59esima fiera del tartufo bianco pregiato. Dal mare di Vallugola al titolo tricolore, Ilaria Vanni, campionessa italiana di moto d'acqua. Buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione serale di Rossini News. Telegiornale di mercoledì 23 di ottobre che apriamo con la cronaca che si mescola alla politica. Infatti l'episodio dello stupro in piazzale Matteotti avvenuto lunedì accende il dibattito sulla criminalità a Pesero con il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia che chiede un consiglio comunale straordinario sulla sicurezza. Fratelli d'Italia rinnova le richieste che sta presentando da anni all'amministrazione comunale per una maggior sicurezza, un maggior presidio del territorio perché si sono create in città delle vere e proprie zone franche che sono teatro di spaccio e di criminalità e oltretutto si sviluppano anche in pieno centro storico e questo va a pregiudicare fortemente la libertà e il senso di sicurezza delle famiglie di tutti i cittadini pesaresi. Abbiamo presentato delle istanze, delle interrogazioni, dei comunicati, abbiamo fatto dei flash mob anche al Parco Miralfiore. Diciamo che le zone interessate sono anche la zona della Galleria Roma, piazzale Matteotti, il Parco Miralfiore, piazzale della Resistenza. Queste zone vanno assolutamente attenzionate. Anzi, una proposta di Fratelli d'Italia è anche quella, visto che in seguito alla riassegnazione a Pesaro di quegli agenti che erano stati invece collocati all'Unione Pian del Bruscolo, questi agenti ben potrebbero essere impiegati con un adeguato piano strategico per presidiare il territorio e per ripristinare anche i vigili di quartiere che sono sempre un punto di riferimento importante per la cittadinanza. Quindi queste le richieste di Fratelli d'Italia, d'altronde ogni qualvolta abbiamo effettuato queste segnalazioni siamo stati tacciati di allarmismo, mentre gli episodi che accadono sempre più di frequente qui a Pesaro confermano tutto il contrario e quindi è necessario anche convocare questo Consiglio Comunale d'Urgenza sul tema sicurezza proprio per concordare degli interventi concreti sul territorio. E l'episodio di violenza sessuale a Pesaro arriva anche all'attenzione del ministro Matteo Salvini che oggi attraverso i suoi canali social ha commentato l'episodio con un eloquente altro che tolleranza e solidarietà, tolleranza zero e castrazione chimica per violentatori e in questo caso l'espulsione. Vedremo a tal proposito cosa emergerà dalla convalida dell'arresto prevista per domani. Si moltiplicano le vie del centro pesarese meritevoli d'attenzione in quanto preda di un degrado crescente come illustrato da questa segnalazione a Rossini TV. Ragazze e ragazzi che utilizzano vie del centro storico come un orinatoio. Il video, oscurato per ovvie ragioni di privacy, è stato recapitato a Rossini TV da un residente di Via delle Zucchette che denuncia una maldigerita situazione di degrado che si sta trascinando da anni. Quelle di luoghi diventati ritrovi abituali per ragazzi che vanno dai 12 ai 20 anni che, a detta di chi segnala il problema, si ritrovano spesso in situazioni fuori controllo. Situazioni in cui il fare i propri bisogni in pubblico è di fatto secondario al frequente consumo di droga, dalla cannabis alla cocaina, che avviene in maniera quasi quotidiana ed evidente. Il tutto a pochi metri da uffici pubblici come la sede dell'Anagrafe. Una situazione abituale da 5-6 anni secondo i residenti, dove anni fa si ritrovavano alcuni senza fissa dimora e che ora invece il luogo diventa sensibile per altre criticità giovanili. Oggi conferenza stampa in regione del Partito Democratico delle Marche che attacca l'Agenzia per il turismo e per l'internazionalizzazione delle Marche, la cosiddetta Atim. I Dem hanno infatti aperto la conferenza proiettando alcuni video girati in settimana e in giorni diversi che mostrano gli attuali uffici dell'Atim nella sede della Camera di Commercio di Ancona, completamente vuoti durante l'orario di servizio, nonostante la pianta organica dell'Agenzia preveda la dotazione di bene 12 unità lavorative. Immediata la replica del governatore Acquaroli che attraverso un intervento sui social si è detto convinto del buon operato di Atim, ma per attenersi ai valori di chiarezza e trasparenza ha proposto l'istituzione di una commissione d'approfondimento sul corretto operato dell'Agenzia. Commissione richiesta dallo stesso PD per far luce sugli affidi diretti ad Atim. Torniamo su Pesaro perché l'installazione del bosco che cammina collocata da mesi in Viale Marconi la prossima settimana sarà spostata verso la sua sede definitiva nell'area dell'Istituto Alberghiero Santa Marta. Un trasloco ritardato secondo il Comune dai danni da maltempo che hanno visto coinvolte in forze il centro operativo con lavori prioritari. Contemporaneamente allo spostamento del bosco sarà anche modificato il transito delle automobili che potranno nuovamente percorrere Viale Marconi ma solo a senso unico da Viale dei Partigiani verso la Statale. Il tutto mentre nella strada l'auto di Tormus Cavolini è prevista la realizzazione di un piazzale che aumenterà lo spazio pedonale rispetto all'attuale marciapiede. In attesa di un progetto definitivo le diverse aree saranno delimitate al momento con fioriere sedute bianche già utilizzate nella zona mare durante l'estate. Ed ora ci spostiamo ad Urbino dove l'Università ha conferito al Vice Presidente della Commissione Europea Giuse Borrelli il primo dottorato onoris causa in Global Studies, Economy, Society and Law. A conferirlo è stato il Rettore Giorgio Calcagnini come riconoscimento premio ad una delle personalità più capaci del panorama politico istituzionale internazionale. Alcuni importanti passaggi del suo percorso da Vice Presidente della Commissione Europea sono stati ricordati nella laudazio dal Professor Antonello Zandri, coordinatore del progetto, che ha parlato del fondamentale ruolo di Borrell nel ripensamento complessivo delle relazioni politico-commerciali internazionali per far fronte alla pandemia e anche per il Fondo Comune nel sostegno militare al popolo ucraino in seguito all'aggressione russa. E sempre all'Università di Urbino si conclude domani l'23esimo Career Day, appuntamento sempre più partecipato per quello che riguarda la congiunzione fra mondo accademico e mondo del lavoro. A Urbino le aziende e gli studenti si incontrano in occasione dei Career Day, un'opportunità per incrociare la domanda e l'offerta del mondo del lavoro, presentando a studenti e studentesse aziende del territorio e del panorama nazionale. Per l'occasione si è svolta anche la tavola rotonda con i cosiddetti laureati capolavoro. Agevoliamo il mondo imprenditoriale con l'incontro di un numero di studenti elevato che hanno profili di formazione diversi. Uno pensa sempre che siano avvantaggiati i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in cose scienze politiche, ma no, dobbiamo pensare che il mondo del lavoro di oggi richiede figure che siano capaci di sviluppare questa formazione che hanno avuto di tipo, per alcuni aspetti, interdisciplinare. Perché quello che dico sempre, lo sottolineo, la realtà è sempre più complessa e per capirla, interpretarla e anche cogliere le opportunità bisogna avere gli strumenti che siano aggiornati e per far questo bisogna sapere sicuramente di economia, ma bisogna sapere anche di comunicazione, bisogna sapere di tecnologia. Quindi, ecco, e questo credo che sia importante perché permetta proprio agli studenti di avere questo incontro, no? Questo incontro e anche per le imprese perché è molto più facile venire qua un giorno, due giorni, se consideriamo i due eventi, quello primaverile e quello autunnale invece che di andare ogni singolo candidato che manda il suo curriculum. Quindi ci piace molto e penso che sia molto bello. Per noi questo è l'appuntamento più importante che ci permette di far dialogare il mondo del lavoro con i nostri giovani, che poi è la cosa più importante. Per favorire questo dialogo noi mettiamo in campo tutta una serie di iniziative, compresa naturalmente la cerimonia di oggi, la premiazione dei nostri laureati capolavoro che rappresentano per noi un fiore all'occhiello, la loro carriera, il loro impegno, la loro passione. Non solo hanno permesso loro di raggiungere grandi traguardi ma consentono anche di portare in giro per l'Italia e il mondo quello che è il nome di Urbino e quindi per noi non può che essere un'occasione di grande piacere, oltre che essere un grande esempio per i nostri giovani. Sono le aziende che partecipano e che portano sul piatto quelle che sono le loro offerte di lavoro e cercano il dialogo con i nostri giovani che arriveranno preparatissimi perché nel calendario di questo Carrere Day abbiamo messo diverse iniziative, tutte mirate a orientare al meglio i nostri giovani e a prepararli a questo incontro. Dopo Apecchio, Pergola e Sant'Angelo in Vado si accende il semaforo verde anche sull'edizione 2024 della Fiera del Tartufo Bianco pregiato di Acqualagno, una 59esima edizione che partirà questo sabato e che ieri è stata presentata a Roma. A pochi giorni dal via della 59esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, che partirà sabato 26 ottobre, la Kermesse è stata presentata a Roma nella serata di gala tenutasi nello scenario del Pio Sodalizio dei Piceni. La capitale del Tartufo Bianco pregiato italiana insieme ad Alba ha presentato gli oltre 50 eventi che fino al 10 novembre spazieranno fra cooking show, spettacoli, approfondimenti, tool show, laboratori, visite guidate e ricerche del tartufo. Tra le novità c'è la seconda edizione del Tartufo Award per eleggere il vincitore nella sfida in cucina tra le principali città testimonial del tartufo in Italia. Oltre a Acqualagna ci sarà infatti a Mandola, Alba, San Mignato, Parco del Matese e Potenza. Noi viviamo di memoria, di tradizione perché la Fiera Nazionale del Tartufo è stata ideata negli anni Sessanta e andiamo verso il Sessantesimo e dobbiamo rendere omaggio a quei sindaci che l'hanno ideata in quel periodo e poi l'hanno mantenuta negli anni successivi. Quindi io raccolgo il testimone di tutti i sindaci che si sono avvicendati alla guida del Comune. La nostra intenzione è sì ricordare il passato ma innovare anche per il futuro. Quindi pensiamo alla internazionalizzazione della nostra Fiera come nuova prospettiva di sviluppo del tartufo che è volano di un'economia provinciale e di un'economia regionale e ci vorremmo affacciare sul mercato europeo. Tant'è che abbiamo già allacciato dei rapporti anche con la vicina Austria, con Vienna, con la quale ci collegheremo durante la Fiera per un collegamento in diretta da due piazze dei nostri comuni. Da questa edizione poi il tartufo bianco di Acqualagna stringe un accordo di gusto con un'altra eccellenza agroalimentare del territorio, l'olio di cartoceto DOP avviando così una nuova fase di cooperazione tra comuni. Diciamo che Acqualagna è sempre vissuta su un preciso equilibrio tra ambiente, natura e gastronomia con il tartufo che faceva da padrone. Però tutti e tre questi aspetti non hanno mai prevaricato l'altro, tant'è che abbiamo creato un unicum che ci consentirà anche di prospettare un futuro di uno sviluppo che vada oltre al semplice fatto gastronomico che diventi anche volano di una crescita turistica. E domenica torna il tradizionale appuntamento annuale con i convegni d'approfondimento portati avanti dall'Associazione 50 e più di Confcommercio. Il focus di quest'anno è su come l'arte e la bellezza influenzino la salute. Arte, bellezza, benessere. Come l'arte e il bello influenzano la salute. Questo è il titolo del convegno che si terrà domenica 27 ottobre alle 10 nella sala convegni di Confcommercio rinnovando il consueto appuntamento annuale di focus d'approfondimento organizzato dall'Associazione 50 e più in collaborazione con Terziario Donna e la Beauty Personal Trainer Stella Scarpa. L'arte, la bellezza e il benessere sono delle medicine dell'anima e quindi noi tenendo molto al benessere psicofisico dei nostri associati abbiamo cercato un tema particolare, d'altra parte come ogni anno che cerchiamo sempre di dare delle novità ai nostri soci e invitando esperti a livello nazionale. Ci racconteranno tutto quello che è possibile capire perché l'arte fa bene alla mente e anche al fisico. Relatori del convegno, i docenti dell'Università Torvergata di Roma Angela Savina e Ottavio De Clemente, l'arte terapeuta Anna Maria Taroni, l'igienista dentale Alessia Morelli e la stessa Stella Scarpa. Vi invitiamo a scoprire come l'arte e la bellezza possano trasformare la nostra vita e influenzare positivamente la nostra salute. Durante il mio intervento discuterò di armonia tra aspetto e sentire, rivelando come investire nella nostra estetica personale possa diventare un potente strumento per aumentare la tua stima e promuovere la felicità. Unitevi a noi per vivere insieme questa straordinaria esperienza e ricordatevi che la bellezza è un vero e proprio farmaco per il cervello. Come fare a meno di arte, bellezza e benessere? Sono le prime lettere dell'alfabeto e non possiamo farne a meno. Io da Presidente Terziere Donna sono fiera di avere all'interno del nostro Consiglio, come Vice Presidente Stella Scarpa, come Consigliere Alessia Morelli, due delle relatrici di questo convegno. Quindi vi aspettiamo perché sarà una mattinata veramente interessante. Convegni d'approfondimento che periodicamente si affiancano ai servizi proposti da 50 e più. Si rivolge alle persone chiaramente che hanno compiuto più di 50 anni e i servizi proposti sono soprattutto i servizi Enasco, per cui su tutto il territorio della nostra provincia proponiamo questi servizi dell'Enasco che riguardano sia la parte previdenziale che la parte finanziaria. E inoltre, chiaramente, come dicevo prima, noi ci occupiamo di far star bene i nostri associati, sia da un punto di vista del benessere psicofisico che sociale. Per cui organizziamo incontri, eventi e anche facciamo moltissime serate insieme dove stiamo benissimo, ci divertiamo perché è questo che bisogna fare a una certa età. Venerdì 24 ottobre alle 21 la chiesa della Maddalena ospita a ingresso gratuito il live show di Daniele Gattano, ospita e speciale del meeting Rete Redi, in programma in città domani e venerdì. Gattano è tra gli stand-up comedy più brillanti d'Italia, ha condotto tre edizioni del Milano Pride e sarà in scena con lo spettacolo Perestroica e Pancake. Invece domenica 27 ottobre alle 17 al Teatro Rossini andrà in scena il concerto lirico-sinfonico del coro filarmonico Rossini che per l'occasione si esibirà assieme all'ensamble con fuoco Beatty Gheim di Germania. Sul palco oltre 100 musicisti interpreteranno la messa di Gloria di Rossini e un overtour di Bruckner. Si tratta di una collaborazione di tollo tedesca che il coro della città ha preparato nell'ambito delle iniziative di Pesaro 2024. Informiamo anche che domenica 27 ottobre Poste Italiane, partner ufficiale di Pesaro Capitale della Cultura, offrirà al pubblico l'ingresso gratuito al Museo Archeologico Oliveriano, ovvero uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale cittadino. Nell'ingresso sarà inclusa anche una visita guidata gratuita su prenotazione della durata di circa un'ora. E concludiamo il nostro telegiornale con lo sport. Oggi andiamo a conoscere una ragazza davvero speciale, si chiama Ilaria Vanni, è di Gabicce Mare ed è la nuova campionessa italiana di moto d'acqua. Allenandosi sfrecciando fra le acque di Baia Vallugola è diventata campionessa italiana e vice campionessa europea. Ilaria Vanni, 27 anni di Gabicce Mare, è la nuova regina della moto d'acqua, un titolo italiano ottenuto a fine settembre al quale è seguito un argento a livello europeo. Finalmente dopo anni di tentativi sono riuscita a vincere il mio primo campionato italiano e sono appunto riuscita a piazzarmi bene anche nel campionato europeo. Sono stati anni tosti perché sono stati molto in salita dal primo anno in cui ho iniziato a correre nel 2021 dove mi sono piazzata terza che per me era comunque un sogno perché è il primo anno e poi il campionato è sempre diventato più tosto e le avversarie veramente impegnative e quindi quest'anno essere riuscita ad arrivare in questi due grandi traguardi per me è stato veramente importante. Titolo italiano che è arrivato dopo un percorso a tappe chiuso trionfalmente nelle acque tirreniche di Fiumicino per poi spostarsi in quelle atlantiche del Portogallo per un altro straordinario piazzamento europeo. Ci sono boe bianche che vengono diciamo invierate a destra mentre boe rosse a sinistra e poi si arriva a una parte di circuito in cui c'è una biforcazione dove il pilota può decidere se appunto prendere una strada o meno, di solito sono strade equivalenti. Alla fine di queste due strade ci si rincontra e diciamo che possono avvenire lì i sorpassi, quindi la gara dura un quarto d'ora diciamo nel mio caso nella runabout femminile più un giro e quindi si basa diciamo sulla resistenza anche fisica, sulla capacità di guida, sull'esperienza. Un'attività agonistica che nasce dalla passione per il mare ma non solo. Sono sempre stata un'appassionata del mare e mio babbo anche, ho preso la patente nautica anni fa da lì mi sono fissata che io volevo provare questa moto d'acqua e un giorno quando ero al mare davanti alla mia spaggia c'era un evento dove un pilota, tra l'altro faccio nome e cognome Manuel Reggiani, campione, portava in moto d'acqua questi ragazzi, ragazzi disabili quindi gli faceva fare un giro, un'esperienza diciamo indimenticabile, facevano questo evento di mototerapia. Mi sono avvicinata e gli ho chiesto se un giorno avessi potuto diciamo fare un giro perché la volevo provare a tutti i costi e nei giorni successivi ci siamo accordati, mi ha fatto provare la sua moto, da lì non sono più scesa, non sono più scesa e ho iniziato ad allenarmi con lui che tra l'altro campione italiano quattro volte, campione mondiale l'anno scorso e ho affrontato il mio primo campionato italiano nel 2021 e siamo qua. Ci alleniamo tutto l'anno praticamente e anche con il freddo ci alleniamo in mare e chiaramente c'è una preparazione fisica dietro che va dalla palestra a tutto quello che comunque ci consente di riuscire a essere performanti sulla moto d'acqua, io personalmente vengo dall'atletica quindi è uno sport che mi ha avvantaggiato tanto e quindi niente c'è tanto lavoro fisico ma soprattutto anche mentale perché la testa fa veramente la differenza in gara, una partenza sbagliata o comunque sia non essere lucidi, sbagliare una boa, hai buttato una gara perché sei praticamente ultimo, se sbaglio una boa. Si chiude qui il nostro telegiornale Rossini News, prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare da quello che arriva subito dopo il TG alle 20, il nostro magazine La Natura della Cultura dedicato ai tanti appuntamenti di Pesaro 20 e 24, questa sera parliamo di arte andando a conoscere i 55 dipinti di Ettore Travaglini nel centenario della nascita dell'artista che sono in mostra ai musei civici. E poi a seguire alle 21.20 la politica con amministranti nuovi sindaci, vi riproporremo la puntata dedicata al sindaco di Gabicce Mare, Marila Girolomoni. E poi naturalmente vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la segna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. E ancora appuntamento anche a domani sera con una nuova puntata di Insieme a Canesta, analizzeremo questo momento delicatissimo della VL con la nostra Elisabetta Ferri e Alessio Zaffini che avranno come ospiti della puntata il general manager della Carpegna Prosciutto Basket Matteo Maggi e l'opinionista e scout Lorenzo Scatigna. Appuntamento in diretta alle 21 con possibilità di commenti e di interazione di voi telespettatori al numero Whatsapp dedicato 370-366-7210. E poi facciamo un passo avanti anche a venerdì sera quando inaugura primo piano un nuovo appuntamento d'approfondimento curato da Teobaldo Bianchini. Venerdì sera parleremo di bullismo e cyberbullismo, un problema da risolvere. Lo faremo in compagnia dell'Avvocato Pia Perricci, dell'ex segretario delle SIULP di Pesero Marco Lanzi e della psicologa e psicoterapeuta Eleonora Palma. Tutto questo venerdì alle 21, prima puntata di Primo Piano. Ed è tutto per questa sera. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con i trailer delle GAD, il Festival d'Arte Drammatica, in corso in questi giorni a Pesero. Anche quest'anno Rossini TV infatti consegna un premio al trailer più votato tra gli spettacoli in concorso. Trailer che vi ricordo potete votare attraverso la pagina Facebook Amici della Prosa. e questa sera vi proponiamo il Teatro Comico della Compagnia La Graticcia di Verona, ultimo spettacolo in concorso che sarà in scena al Teatro Rossini sabato 26 ottobre alle ore 21. E questo era l'ultimo annuncio di questa serata. Vi ringrazio per averci seguito, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.